Microvet opera nel settore della produzione di veicoli elettrici. Quali sono i principali vantaggi per un'azienda che decide di trasformare parte della sua flotta in veicoli elettrici bimodali o totalmente elettrici? Ad oggi la Microvet è leader nel settore della produzione di veicoli elettrici, con un parco circolante di circa 3.500 veicoli. Propone alle aziende veicoli con i quali ridurre in maniera sostanziale i consumi, nonché la CO2 e avvia le aziende ai temi della mobilità sostenibile, potendo entrare nei vari centri cittadini senza limitazioni. Inoltre con l'acquisizione di veicoli elettrici le aziende ottengono anche svariati vantaggi fiscali. Proponiamo nell'acquisizione della flotta, sia l'acquisto classico che la possibilità di un noleggio a lungo termine. Ci parli un po' di Microvet, come siete diventati leader di mercato? Microvet nasce nel 1986, grazie al connubio con grandi aziende automobilistiche italiane, quali Piaggio, Fiat, Iveco, crede pienamente nell'evoluzione di motori a basso impatto ambientale o a zero impatto ambientale. Quindi la sua mission è sviluppare sempre al meglio la tecnologia dei motori elettrici, con investimenti continui. Attualmente la nostra azienda è composta da 55 persone e in grande estensione anche all'estero.